Sono quattro i nuovi casi di coronavirus oggi in Abruzzo su 997 tamponi analizzati, 0,4% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri invece i positivi erano stati 32 su un totale di 1.003 tamponi analizzati, 3,2%. Questo aumento fa fare all'Abruzzo cifra tonda, sono infatti 3.000 i pazienti affetti da Covid-19 nella nostra regione. 301 pazienti, più uno rispetto a ieri, sono recoverati in ospedale in terapia non intensiva, 15, meno uno rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.521, meno 32 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 332 pazienti deceduti, più due rispetto a ieri. 831 sono invece guariti, più 33 rispetto a ieri, di cui 222 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 609 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 41.108 test, di cui 36.506 sono risultati negativi. Nel totale dei casi positivi, 242 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monell'Aquila, 766 alla ASL Lanciano-Vastocchieti, 1.351 alla ASL di Pescara e 641 alla ASL di Teramo. I quattro casi di oggi si riferiscono alle ASL Lanciano-Vastocchieti, 2 e alla ASL di Pescara, 2. Nessun caso invece nelle ASL Avezzano sul Monell'Aquila e Teramo.